Ciao, benvenuto in questo video. In questo video ti parlerò di come si guarda una zoom, perché è fondamentale, ok? È fondamentale capire bene come si guarda una zoom perché le persone che tu porti a una zoom potrebbero motivarsi ma potrebbero anche demotivarsi, ok? A seconda di cosa tu dici alle persone prima e dopo che vedono questa zoom. Allora io ti consiglio di, vi consiglio di, di condividere con più persone possibili del vostro team, sarà un qualcosa di assolutamente generico. È fondamentale perché lo zoom è uno strumento assolutamente diffuso. Adesso in questo periodo, mi sentite bene innanzitutto se me lo scrivete sotto, in questo periodo addirittura la stanno facendo vedere anche i bambini, stanno guardando le zoom per la scuola, quindi la zoom è qualcosa che si guarda. Nel nostro settore è uno strumento dove noi portiamo le persone in zoom perché le vogliamo ispirare, perché le vogliamo motivare, perché vogliamo che imparino cose nuove da un top performer solitamente, quindi da una persona che sta ottenendo grandi risultati a fare clienti e a fare incaricati. Qual è la mia esperienza con, portando le persone in videochiamata a questi eventi di formazione online, le persone del mio team? È che c'è il grosso rischio che queste persone si confrontino e si confrontano in modo negativo con lo speaker. In che senso? Nel senso che se io porto, per esempio, questo pomeriggio porto in zoom una persona che è bravissima a fare clienti, bravissima a fare incaricati, bravissima a tenere il suo profilo facebook, bravissima in tutto, c'è caso che tantissime persone possono pensare, ok, io non sono come lei, io non ce la farò mai, io non posso arrivare al suo livello. Quindi si genera quello che viene detto là, confrontite, ok? Condividi questa diretta con le persone del tuo team perché le persone del tuo team e le persone che sono in questo settore sono malate di confrontite, cioè si stanno confrontando continuamente con altre persone che magari ottengono risultati migliori di loro. Quindi il primo errore è la confrontite. Perché questo è un grande errore? Perché non esclude completamente quello che è il passato della persona, non sai che esperienze questa persona ha avuto, non sai bene quali sono le sue motivazioni, non riesci a capire che per arrivare a quel livello c'è tutto un lavoro dietro. Quindi questa è una cosa assolutamente fondamentale da capire, cioè chi si confronta sta confrontando il capitolo 1 della sua vita con il capitolo 10, per esempio, della vita di un'altra persona. E l'unica persona con cui puoi confrontarti è con te stesso, come eri ieri, come eri l'anno scorso, come sei oggi. Sei migliorato, sei migliorata? Se sei migliorata, bene, se no guarda come puoi migliorarti. Quindi il primo grande errore che le persone fanno è la confrontite. Quindi si confrontano in modo negativo, depotenziante, in modo non costruttivo, con persone che stanno ottenendo o hanno ottenuto risultati molto più importanti dei propri. Il secondo errore è un focus sulle differenze, quindi un'attenzione alle differenze tra noi e l'altra persona. Non so se ti è mai capitato, ti dicono sì lei è brava, ma io sono diversa. Sì lei è brava, ma io ho questo carattere, lei ha quest'altro carattere. Sì è brava, però lei ha queste possibilità che io non ho. Sì lei è brava, però lei è mamma, io non sono mamma. Oppure lei non è mamma, io sono mamma. Oppure lei è grassa, io sono magra, lei è grassa, è una storia da raccontare, di trasformazione. Io sono magra, invece non ho questa storia. Oppure a viceversa, lei è magra e bella, io sono, io sono grassa e brutta, non posso. Oppure lei è empatica, io sono empatica, lei è molto dura. Oppure qualsiasi altro tipo, lei è vecchia, io sono giovane o viceversa, lei è giovane e io sono vecchia, quindi non ho le stesse, siamo diverse, quindi non posso io fare quello che, quello che farei. Quindi questi sono due errori grandi. Cosa invece puoi fare quando guardi una zoom? La prima cosa è ispirarti. Ispirarti vuol dire se lei ha fatto dei miglioramenti, se lei è riuscita ad arrivare a questo punto di risultati, allora posso farcelo anch'io. Se lei è riuscita a fare questo, allora posso farcelo anch'io. Se lei è riuscita a superare queste difficoltà che ha avuto nella sua vita, allora posso farcelo anch'io. Quindi è un'ispirazione, prendere punto, prendere ispirazione dalle cose buone che un altro essere umano fa e io mi metto di impegno a fare queste altre cose. Vi risuonano queste cose? Vi risuonano gli errori e vi risuona il fatto che le persone si confrontano, scrivete nei commenti, si focalizzano sulle differenze. Questi due, questi secondo me sono due errori importanti. Quindi ispirarsi, ispirarsi chiaramente, ispirarsi, ispirarsi. Questa persona ha un grande focus, questa persona ha grande determinazione, allora anch'io, questa persona dà tutta se stessa, allora posso dare me stessa anch'io, posso comunque migliorare. Quindi il primo punto, quindi abbiamo detto i primi due errori, il primo punto da fare è ispirarsi, il secondo punto da fare fondamentale è creare un piano d'azione. Cioè, tra tutto quello che mi ha detto questa speaker, questa persona che ha raccontato la sua esperienza, mi potete, mi posso mettere per iscritto, anzi potete, potete, possiamo mettere per iscritto le cose che fa di buono e che io posso, che non sto facendo o non le sto facendo nel modo giusto e posso iniziare a farle adesso. Ok? Quali sono una, due, massimo tre azioni, non ne scrivete di più che se no vi confondete, una, due, tre azioni massimo che io posso mettere in pratica per portare il livello della mia attività, per portare il livello dei miei risultati, appunto, a un livello superiore. Quindi ispirarsi e creare un piano d'azione. E poi voglio me l'ultima cosa, chiaramente, è agire da subito su quel piano d'azione. Agire da subito su quel piano d'azione. Ok, quindi io vi ho dato quattro punti fondamentali da tenere presente quando guardate le zoom. Il mio consiglio dal profondo del cuore è far vedere questo video, condividere questo video con più persone possibili del vostro team che hanno assolutamente bisogno di questo, perché i primi di errori, per esperienza personale, sono errori diffusissimi. Io l'ho fatti, tu l'hai fatti, noi l'abbiamo fatti, tutti l'abbiamo fatti. Se vogliamo parlare dei verbi, la declinazione dei verbi, tutti abbiamo fatto questi errori e quindi non vogliamo, uno, non vogliamo ripeterli noi, due, vogliamo rendere consapevoli le persone che entrano nel nostro team di questi possibili errori quando si guarda una zoom formativa. Ragazzi, io apprezzo le vostre osservazioni, che mi date nei commenti le vostre esperienze in questa situazione, quindi quella che è la vostra esperienza quando guardate qualche persona che ha ottenuto risultati, quella che è l'esperienza delle persone magari che avete invitato del vostro team a vedere quella zoom, a vedere quel tipo di formazione, ok? E quello che avete capito da questo video, quello che vi impegnate a fare dopo aver visto questo video, ok? Io vi ringrazio, vi invito ancora una volta a lasciarmi i vostri commenti e soprattutto a condividere questo video, ci vediamo al prossimo video. Un grandissimo abbraccio, buona giornata a tutti!